Si è chiusa a norma la diciassettesima edizione del Norbensis Festival. Promosso e organizzato dall'Associazione Culturale Norbensis, il festival è diventato con gli anni un appuntamento di rilevanza internazionale per far conoscere le diverse tradizioni musicali dei gruppi folclorici provenienti da ogni parte del mondo. Questa è un'iniziativa che nasce da anni di esperienza nel campo del folclore. È l'Associazione Norbensis che organizza questo evento. Siamo giunti ormai alla diciassettesima edizione con l'aiuto soprattutto di sponsor, quindi di aziende, di privati, di enti e associazioni che tutelano sia festival come festival o festival o enti di promozione turistica come l'APT, patrocinato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, provincia di Latina, comune di Norma. Ci troviamo anno dopo anno a ospitare gruppi folclorici, quindi artisti che vengono da un po' tutto il mondo, dai vari continenti, si esibiscono e rappresentano le loro culture attraverso la danza, la musica, le tradizioni di ogni popolo, delle proprie radici. Abbiamo deciso da tre edizioni, quindi dalla quindicesima edizione, di fare un festival nel festival, quindi Zirizzacco di Festival, Sony, Sibi, Consoni, Popolari, che ospita ogni anno dei gruppi di musica popolare prettamente italiani, che rappresentano le varie regioni d'Italia e ci divertono con la musica popolare più o meno contaminata sia delle varie diversità dalle regioni, quindi sia tra le tipicità che tra le innovazioni che i ragazzi più o meno giovani tentano di rappresentare attraverso la musica. Grazie per la visione!